Ma perché? Ma perché? Mio fratello ce l'ha fatta e io no. Insegnanti, formatrici, precarie, giornaliste, architette, docenti. Non sono cuoche professioniste e questa è una cucina speciale. Un'impresa femminista dove si impasta pane e politica, dove si fanno lievitare pensieri e relazioni. Una cucina speciale, appunto, che sta dentro un circolo, quello della Rosa, il salotto più comodo del femminismo più scomodo, che sta dentro una libreria, la storica libreria delle donne. Il tutto alle spalle della piazza, intitolata le cinque eroiche giornate che cacciarono gli austriaci da Milano. Dico che il fatto di fare la libreria delle donne non è indifferente perché ci si è aggiunto qualche cosa in più. Tutte donne che non hanno mai bruciato i loro reggiseni sulla pira della parità fra maschio e femmina. Donne che, al contrario, il fuoco di cuore e intelletto lo hanno usato per dire e per scrivere la loro diversità, i loro desideri, le loro passioni. Diciamo sempre che la libertà delle donne è il grande imprevisto che è accaduto nella storia e che continua ad accadere. Diu, du, 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 du du... Diu, du, du, du du du... Grazie a tutti